Siamo a Cairo Montenotte, adesso andiamo in piazza, onestamente soltanto noi, veniamo anche in paesi, piccole cittadine abbandonate, la politica è anche questa, lei è Leda Volpi, è candidata alla Camera Deputata del Collegio Uniluminale, come si chiama il tuo collegio? Sì, di zona Savonese, Liguria 2, è un medico, neurologo, giusto? Sì, lavora in ospedale Sanremo? A Sanremo, sì, sempre quella storia che noi non lavoriamo, e nulla, adesso andiamo in piazza, domani andiamo in Piemonte, speriamo ci sia gente presente, fa veramente freddo, soltanto noi andiamo in piazza con queste temperature, speriamo di farcela, la strada per me è quella giusta, me ne accorgo sempre di più, dagli attacchi incredibili che riceviamo, ho deciso proprio di non rispondere più a nessuno, qua non credo ci saranno giornalisti, non ce la faranno anche loro a finire da queste temperature, però basta, voliamo alto, soltanto le nostre proposte, qui c'è Simone Valente, Sergio Bartelli, sono deputati eletti qui a Savona, uscenti e speriamo che possa rientrare, io sento gente, è una bella piazza, sì, poi mi hanno detto che è una piazza che è un gioiellino, una piccola bomboniera, proprio una piazza bella, speriamo lei di inizi tu, io ti presento, dici quello che vuoi e in effetti c'è gente anche qua, bene così, eccoci, eccoci, ciao ragazzi, ciao Grazie a tutti E anche un salame perché ci avete preso per socialisti, grazie di cuore davvero, allora scusate, una prima domanda, c'è qualcuno che è la prima volta che partecipa all'evento del 5 Stelle? Sulle mani? Dove stavate prima? Dove vi eravate nascosti? Perché? Vi siete fidati degli altri? Come? Ah no, certo, certo, però è la prima volta che, fondamentalmente soltanto noi scendiamo in piazza e soltanto noi veniamo anche in certi paesini, tra l'altro carinissimi, ma abbandonati e resi proprio deserti dallo strapotere della grande distribuzione e della mala politica, perché io sto girando l'Italia, questi paesi dove i centri storici diventano deserti, i piccoli commercianti sono dei veri e propri eroi perché resistono appunto anche a ricatti occupazionali, alla grande distribuzione e in tanti centri storici che si svuotano poi purtroppo entra la delinquenza di ogni tipo. Prima di raccontarvi quello che è il nostro programma sul perché, insomma, spiegare per quale motivo, io sono di parte chiaramente, però per quale motivo occorre dare fiducia forse per qualcuno per la prima volta al Movimento 5 Stelle, vorrei presentarvi la nostra candidata al collegio denominale qui di Savona, si chiama Leda Volpi, è un medico neurologo, lavora all'ospedale di Sanremo e questi sono i nostri candidati, cittadini incensurati con esperienze professionali, con preparazioni importanti, che ne dica il sistema mediatico tradizionale, io vado in tutte le televisioni d'Italia, sono andato anche dalla D'Urso, però avete visto, tanti mi hanno visto, però poi veniamo anche a Cairo Montenotte perché pensiamo che la politica con la P maiuscola sia questa appunto, stare sempre in piazza, in luoghi dove probabilmente in questa campagna interale non verrà nessuno e veniamo soltanto noi, vi presento Leda Volpi e dirà tutto quel che vuole, grazie a tutti e a tra poco. Buonasera a tutti, io mi chiamo Leda Volpi, ho 38 anni, sono nata a Livorno, sono un medico, come diceva Alessandro, lavoro all'ospedale di Sanremo, sono specializzata in neurologia e ho un dottorato in neuroscienze all'università di Pisa e mi sono occupata fino a un anno fa di ricerca scientifica, in particolare ho seguito progetti di ricerca nell'ambito delle malattie neuromuscolari e della malattia di Alzheimer, da un anno poi sono diventata strutturata ospedaliera all'ospedale di Sanremo, provengo dal mondo della sanità, quindi che dire, i problemi sono tanti, l'Italia insieme alla Francia ha una delle migliori sanità al mondo, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia i tagli che si sono succeduti nei decenni hanno messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale, oggigiorno entrare in un ginocchio nell'inferno, ci sono pazienti ammassati su barelle, nei corridoi, ci vogliono ore e ore per essere visitati o per effettuare degli esami diagnostici e magari dopo 24 ore di attesa vengono ricoverati i reparti dove ci sono talmente tanti pazienti che non riescono ad essere seguiti correttamente, regolarmente e c'è l'impressione di essere lasciati a noi stessi. Allo stesso modo il personale sanitario si trova a lavorare in grandissime difficoltà, il blocco del turnover che è stato fatto negli ultimi anni ha impedito a medici e infermieri che andavano in pensione di essere adeguatamente sostituiti da nuove assunzioni, questo significa che ogni giorno medici e infermieri si trovano a fare il lavoro di due o tre persone, a svolgere più mansioni contemporaneamente, tutto di fretta e questo naturalmente espone a tanti rischi sia l'utente sia il personale sanitario perché l'errore è dietro l'angolo ma il miglior medico, il miglior infermiere del mondo non può lavorare in queste condizioni, siamo arrivati un po' al punto di non ritorno per cui è necessario un po' invertire la rotta. Allora l'articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino, il Movimento 5 Stelle nel suo programma contiene dei punti molto importanti al riguardo, innanzitutto proteggere e investire sulla sanità pubblica, l'equità di accesso alle cure sanitarie, il cittadino deve poter avere accesso a tutte le cure migliori possibili, vogliamo anche riorganizzare le reti territoriali sanitarie e noi siamo fortemente contro gli accorpamenti in mega distretti sanitari lontani dal cittadino, siamo contro la chiusura dei punti nascita e dei pronto soccorso come è successo anche qui a Cairo, noi vogliamo integrare la rete territoriale con quell'ospedaliera e vogliamo anche investire su progetti di prevenzione sanitaria sia in ambito dell'alimentazione, come diceva Feuerbach noi siamo quello che mangiamo, ma cosa mangiamo? Vorremmo essere un pochino più tutelati e allo stesso modo la politica sanitaria dovrebbe andare di pari passo con la politica ambientale, in sostanza noi vogliamo proteggere e tutelare la sanità che deve rimanere pubblica, il paziente non è un cliente e questo dobbiamo ricordarcelo sempre e la salute è il bene più prezioso. Grazie a tutti. Onestamente io mi sentirei, scusate mi metto le mani in tasca, mi sentirei tutelato se una dottoressa del genere fosse eletta in Parlamento alla Camera dei Deputati dove sono stato cinque anni, tra l'altro vi ringrazio perché ho avuto l'onore di rappresentarvi, di rappresentare tutti quanti, anche coloro che non hanno votato il Movimento 5 Stelle nel 2013 in Parlamento per cinque anni, io a differenza di Leda ho fatto per adesso un'altra scelta, ho deciso di non candidarmi ma perché per me non cambia nulla, io questo ti ringrazio e lo prendo come è un complimento, però dopo cinque anni davvero in primissima linea ho deciso di prendermi una piccola pausa e tornare al mio mestiere, tornare a scrivere, a fare indagini su politica internazionale, stare con la mia famiglia perché sono diventato papà da quattro mesi, insomma ho preso una mia decisione di vita che nulla ha a che vedere con il Movimento 5 Stelle che è una mia seconda pelle e il fatto stesso forse che io non mi sia candidato dimostra quanto nel 5 Stelle più che le poltroni continuano le idee, i progetti, le soluzioni. Ora Leda ha parlato della questione sanitaria che è un dramma un po' in tutta Italia, non soltanto in Liguria, tanti di voi magari coloro che sono la prima volta scesi in piazza ad ascoltare un esponente del Movimento 5 Stelle si domanderanno per quale motivo dovremmo credere a loro, sono 20-30 anni che sentiamo programmi di tutti gli altri, uno e ve lo dico proprio con il cuore non è neanche giusto far ricadere sul Movimento 5 Stelle che è una forza politica che è nata proprio in virtù dei fallimenti dei partiti, le colpe dei partiti politici, cioè non è colpa nostra, noi siamo nati proprio perché l'alternativa era o espatriamo da questo paese e lasciamo l'Italia come tante persone stanno lasciando appunto l'Italia o lasciano paesi come Cairo Montenotte oppure ci rimbocchiamo le maniche e proviamo a dare un contributo. Anni fa quando io mi candidai la prima volta con il Movimento 5 Stelle, neanche si chiamava Movimento 5 Stelle, si chiamava Lista Civica Amici di Beppe Grillo. All'epoca noi non pensavamo di entrare in Parlamento, eravamo un gruppo di cittadini che raccoglievamo delle idee e le presentavamo ai partiti politici, agli eletti nei comuni e non ci hanno mai ascoltato. Io mi candidai la prima volta a Roma nel 2008 con la Lista Civica Amici di Beppe Grillo in una circoscrizione e la prima volta che mi candidai presi zero voti, non mi sono neanche votato da sole, non perché mi sono sbagliato. Guardate che tornare a casa mia mamma mi disse come è andata, poteva andare un po' meglio, perché prendere zero voti è una cosa, sta piovendo sugli ombrelli ecco, cercherò di sbrigarmi, è abbastanza, come? È neve, sta nevicando, bene, nevica il governo tecnico. E all'epoca credevamo soltanto appunto cosa che facciamo ancora appunto nel rispetto di un programma in idee e soluzioni. In un certo senso ce l'abbiamo fatta, a distanza di pochi anni siamo diventati la prima forza politica del Paese, credetemi, mettendoci soltanto passione, mettendoci onestà, mettendoci persone di qualità come Leda Volpi, mettendoci tutto quello che pensavamo fosse giusto. Il movimento è questo, siamo dipinti in maniera incredibile, io oggi sono sceso dal camper a Busall e tanti giornalisti sono venuti verso di me e nessuno che mi ha fatto una domanda sulla nostra idea sul sistema sanitario, su quel che vogliamo fare per le pensioni, su quel che vogliamo fare per contrastare la corruzione, contrastare l'inquinamento, dove vogliamo investire i dinari dei cittadini, perché cosa fa un governo? Un governo ha a disposizione il bilancio dello Stato e decide di fare politica, decide quelle tasse o le investo in sanità pubblica, oppure le investo in una grandissima opera, decido di fare un reddito di cittadinanza o decido di pagarci ancora più vitalizi o più stipendi d'oro, questo fa un governo fondamentalmente. Noi non abbiamo mai avuto a disposizione il bilancio dello Stato, mai, non abbiamo mai avuto politicamente il coltello dalla parte del manico, chiediamo soltanto un'occasione. Qua centinaia di persone, prima forse decine, non voglio esagerare, siete in centinaia, ma decine di persone hanno alzato la mano dicendo della prima volta, magari voi siete anche stati forviati un po' da alcuni pregiudizi e alcuni attacchi che riceviamo quotidianamente, guardate quando io vado in televisione sono sempre molto calmo, garbato, ma io subisco dei veri e propri interrogatori e sono un cittadino incensurato, vedo che ci sono veramente politicanti con reati gravissimi che hanno commesso nel loro cursus honorum, che pare che a loro tutto sia perdonato. Probabilmente non ci perdonano il fatto che ci siamo schierati, non ci perdonano il fatto che abbiamo avuto il coraggio in questi cinque anni di fare denunce importanti, di metterci contro dei mostri sacri in questo paese come i Berlusconi e i Benedetti, quali erano nemici, oggi si sono ritrovati amici, alleati rispetto alla possibilità di vittoria del Cinque Stelle, erano sempre stati avversari, Berlusconi il proprietario del centrodestra ed i Benedetti di fatto il proprietario del centrosinistra e oggi sono entrambi terrorizzati, hanno dichiarato qualora dovesse vincere il Cinque Stelle abbandoneremo l'Italia, ecco abbiamo l'occasione di toglierci dalle palle contemporaneamente. È una grande occasione. Dicevo, vi domanderete per quale motivo questi ragazzi, ci chiamano in questo modo, dovrebbero essere in grado di risolvere dei problemi che gli altri non hanno mai risolto, perché non abbiamo conflitti di interesse. Ora, io la certezza che il Cinque Stelle ce la farà, non ce l'ho, non ce l'ho, sono proprio super onesto. Noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, vi diamo un programma, vi diamo dei candidati incensurati, vi diamo delle proposte delle idee, vi diamo però due cose che non vi può dare nessun altro. Uno, è l'autofinanziamento e guardate che si gioca tutta lì la battaglia politica. Due, è l'assenza dei conflitti di interesse, le cose sono collegate. Qui a sinistra c'è questo crocco, questo si chiama Totem, chiunque ne avesse voglia può venire qui e fare una libera donazione al Movimento Cinque Stelle. Io tutto il tour, sto girando tutta l'Italia con il camper, lo sto finanziando in questo modo. Non c'è nessun grande lobbista del petrolio che mi ha dato 100.000 euro e poi magari mi chiede qualcosa in cambio, magari continuare a investire nelle fonti fossili, nel carbone, nel petrolio e mai portare avanti un piano energetico nazionale basato sulle rinnovabili che non solo potrebbe creare, diciamo migliorare questo paese dal punto di vista ambientale, ma potrebbe creare tanti tanti nuovi posti di lavoro. Sappiate che noi abbiamo calcolato che con un miliardo di euro delle tasse di cittadini investiti in fonti fossili si creano 500 posti di lavoro. Se lo stesso miliardo lo investi in fonti rinnovabili crei 18.000, 16.000 posti di lavoro. Quindi pensate, investire nelle energie rinnovabili non soltanto migliora il nostro territorio, permette anche a tanti più turisti di venire nel paese che è il più bello del mondo. Io oggi ho fatto delle interviste a Genova, Genova lo conosco benissimo, ma non ha nulla di meno di Barcellone, non è populismo. Chi conosce Genova sa che è una città splendida, la potenza culturale della storia, è paesaggistico, eppure molti più turisti vanno a Barcellona. Perché? Probabilmente perché si è investito molto di più in altro, in Spagna o in altri paesi. Questo è. Il Movimento 5 Stelle è questo. Noi ci autofinanziamo, chiunque può venire qui fa una donazione, con la carta di credito pure, vi verrà clonata immediatamente. Sto scherzando. E vi esce anche subito fuori la ricevuta dell'effettiva donazione. Cioè questo è il movimento. Sembra una cosa da poco, però vi racconto una storia che è reale, io l'ho scritta e detta dovunque. Nel 2006 Riva, quello dell'Ilva, che poi è morto, finanziò contemporaneamente le campagne elettorali di Berlusconi e di Bersani, contemporaneamente. A Bersani diede 98 mila euro, finanziamenti lesciti, non illegali, e a Forza Italia diede 240 mila euro. Qual era l'idea dell'ingegner Riva dell'Ilva? Io finanzio tutti, così poi vince uno, vince l'altro, non c'è problema, mi restituirà il favore. E infatti in questi anni sono stati fatti tanti decreti salva Ilva e ai cittadini di Taranto, che vivono in condizioni drammatiche, in un quartiere che si chiama Tamburi, ma ci stanno tanti quartieri Tamburi disseminati per la penisola, tante terre del fuoco anche qui al nord, tante persone che si ammalano respirando, tante persone magari fantasmi che si ammalano di cancro per l'inquinamento, ancora per le fonti fossili. Ecco, a quegli cittadini non ha mai pensato nessuno. L'obiettivo dei finanziatori era controllare la politica attraverso il finanziamento. Qualora noi dovessimo, cosa che riusciamo sempre, finanziarci esclusivamente, addirittura rifiutando il finanziamento pubblico a partiti, perché vi do la mia parola d'onore, il Movimento aveva diritto nel 2013 a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, con 42 milioni di euro a voglia campagne elettorali. Qui avremmo montato dei riscaldamenti e ci sarebbe stata una temperatura da tropici, figurate. Nonostante appunto siamo riusciti a rifiutare questi soldi, continuiamo a fare campagne elettorali, non a costo zero, ma tramite le libere donazioni ai cittadini. Questo significa che noi abbiamo un unico padrone a cui render conto, il popolo italiano, un unico lobbista da soddisfare, il popolo italiano che finanzia appunto l'attività politica. Questa è l'enorme differenza. Falcone diceva seguite i soldi e troverete la mafia, tutto lì il punto. E per ricollegarmi al discorso che faceva l'Eda, poi vuoi fare una domanda? Sì, assolutamente. Se vuoi dimmi subito. Va bene, ora arrivo pure a questo punto, ti ringrazio. Per quanto riguarda, te lo prometto, per quanto riguarda la questione legata alla sanità, oggi in questo paese sembra più conveniente rivolgersi alla sanità privata. Ci metti meno tempo e alle volte spendi anche di meno. Questo non per l'incapacità della politica, ma per una scelta specifica della politica. Scoprendo, perché poi io mi dedico molto a cercare i finanziatori delle campagne elettorali dei politici, io vi invito, prima di votare, soltanto a verificare chi sono i finanziatori delle forze politiche. Come prima di credere ad un articolo che leggete, verificate chi c'è nel Consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. È tutta lì la politica. È sempre. Certo, ci vuole del tempo e mi rendo conto che ognuno ha tante cose da fare, tantissime questioni da affrontare, però è tutta lì la politica. Cioè, se riusciamo anche ad investire un po' di tempo, è proprio un investimento, due ore al giorno, cinque ore a settimana, nell'analisi di questi fenomeni politici, probabilmente non ci facciamo prendere in giro. La politica è bellissima, ve lo dice un ragazzo, ormai uomo, di quasi 40 anni, non candidato, che avrebbe la poltrona assicurata e che preferisce girare con un camper tutta Italia, con la famiglia, soltanto per spiegare perché occorre tutti insieme ritirare su questo paese, perché altrimenti non ce lo facciamo. Tutta lì è la questione, legata ai soldi e a conflitti di interesse. Nel momento in cui, appunto, vi dicevo in cui, dei rasse delle cliniche private finanziano la politica, la politica restituisce il favore, come Bersani e Berlusconi arriva dell'ILVA, tale e quale, stesso meccanismo, il favore è spolpare la sanità pubblica per spingere il cittadino a rivolgersi al privato, così il finanziatore delle campagne elettorali dei politici avrà il proprio ritorno. Molti più clienti, come diceva prima Leda, e i pazienti non dovrebbero mai essere clienti, appunto che portano denari per farsi curare. Questo è il meccanismo. E c'è su tutto. Il sistema bancario, che è un dramma, io mi scaglio molto con il capitalismo finanziario, perché oggi non viviamo in una repubblica, viviamo in una sorta di bancocrazia. Le banche private piazze in un loro uomini all'interno dell'istituzione. Posso farmi nomi e cognomi. Draghi, Monti, Prodi, prima di diventare politici, vabbè Draghi prima di diventare presidente della BCE, tutti lavoravano in una banca privata che si chiama Goldman Sachs. E Barroso, l'ex presidente della Commissione Europea, finisce il suo mandato da capo, diciamo, politico dell'Unione Europea e trova lavoro come consulente in Goldman Sachs. Ma anche Amato, l'ex presidente del Consiglio, attuale giudice della Corte Costituzionale, tesoriere di Craxi, quello che mise mano di notte nei nostri conti correnti, oggi appunto è giudice della Corte Costituzionale, ha avuto consulenze per le banche d'affari. Così Gianni Letta, il braccio destro di Berlusconi. Amato telefonava ai vertici di Montepaschi di Siene e si faceva prestare quattrini per il torneo di tennis di Orbetello. Però se sei un ragazzo di cario Montenotte e vuoi metterti in piedi un'impresa, un piccolo negozietto, un bed and breakfast e per stare in questo territorio e non fuggire a Londra a fare lavapiatti, magari le banche non ti ascoltano. Questo è il problema. Vedete come c'è questa commissione, questo conflitto di interessi tra le banche d'affari e le istituzioni. È tutto lì, le banche d'affari piazzano i loro uomini all'interno delle istituzioni e questi loro uomini fanno il lavoro sporco per le banche d'affari. Noi non abbiamo nessun legame con le banche d'affari e saremo gli unici in grado di fare una legge semplice per tutelare il risparmio di cittadini, una legge a costo zero, perché si parla tanto di coperture finanziarie. Io vado in televisione, qualsiasi proposta, dov'è la copertura finanziaria? Non ricordo quando Berlusconi andò a firmare da Vespa il contratto per italiani, Vespa chiedergli, Presidente, mi dica quali sono le coperture finanziarie. Non me lo ricordo. Comunque alcune leggi, come la separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali, si possono fare a costo zero. Noi questo vogliamo fare, dividerle. Così il cittadino è informato, sa che i suoi risparmi se li mette in quella banca, sa che quella banca farà la banca, farà profitto, la banca fa profitto, ma è sul territorio, con le imprese e le famiglie, non farà operazioni di speculazione in borsa. Questo è. Poi se tu vuoi mettere quattrini in una banca d'affari lo puoi fare, ma sei avvisato che lì è più rischioso. E così si tutela il risparmio per la Costituzione, pretende appunto che la politica tuteli il risparmio di cittadini italiani. E a tutti gli scettici, a coloro che sono qui per la prima volta, che magari non hanno intenzione di votare il Movimento 5 Stelle, io uno vi dico, io non so qui a chiedervi il voto. Io non l'ho mai chiesto in vita mia a dire, votate 5 Stelle. Amen, valutate, leggete il programma, valutate i candidati, prendete una decisione. Vi dico soltanto, onestamente, uno che anche agli scettici del 5 Stelle ha fatto risparmiare tanti soldi. Soldi dei nostri stipendi tagliati, dei rimborsi elettorali rifiutati, di queste campagne elettorali organizzate in questo modo. Soldi su soldi. Decine e decine di milioni di euro, se calcoli i consiglieri regionali qui in Liguria, i consigli regionali eletti col 5 Stelle in tutta Italia, i deputati, i senatori, milioni di euro che sono finiti in un fondo per la piccola e media impresa. E ci sono alcuni cittadini che hanno trovato lavoro grazie ai soldi che per legge ci spetterebbero, perché io ho restituito quasi 220 mila euro, soldi che mi spetterebbero per legge, e lo dico sempre, mi servirebbero pure, ancora di più adesso, mi servirebbero come servirebbero, penso, a tutti quanti voi. Questo l'abbiamo già fatto, questo dico agli scettici. E poi agli scettici, dico, onestamente, non so se questo sia corretto dire in campagna elettorale, però lo dico a tutte le persone che magari guardano soltanto il PD1, il PD2, il PD3, che sono questi telegiornali, o Mediaset che ormai presenta i video del condannato De Arcore che sta lì con i fogli in mano, che si sbaglia, che sbiascica, che sbaglia le cifre, sempre registrato. Io lo dico sinceramente, se i 25 anni di Berlusconi che dice odio la politica e è stato 5 volte Presidente del Consiglio, 4 o 5, Ministro della Sanità ad Interim, Ministro degli Esteri ad Interim, Ministro degli Interni, tre volte consigliere comunale a Milano, europarlamentare, questo ha fatto Berlusconi in questi 25 anni, ha avuto un potere immenso. Se 25 anni di questo soggetto, dell'altro mentitore seriale da Rignano sull'Arno, che dice di voler abolire il canone quando ce l'ha messo in bolletta, non vi sono bastati, onestamente, per capire la loro pericolosità sociale e politica, il problema non so più Renzi e Berlusconi, sono gli italiani il problema e a loro occorre anche un attimo prenderci la propria responsabilità. Io ho sempre creduto, per rispondere al ragazzo, che un Paese può dirsi soltanto libero al 100% se può fare politiche fiscali, valutare monetarie autonome e indipendenti. Crediamo che in questo momento, che c'è una sorta di debolezza piuttosto evidente da parte della Germania e della Merkel, e dato che nessuno è andato in Europa appunto perché tutti hanno sempre avuto questi conflitti di interessi con il capitalismo finanziario, noi crediamo di avere l'opportunità di entrare e di trattare alcuni, diciamo, parametri molto più convenienti per il popolo italiano. Vogliamo tentare questa strada. Dateci un po' di tempo per trattare questa strada, poi valuteremo, questo è il concetto. Questo io penso. Oggi, in questo momento, come ha detto Luigi, il referendum sull'euro e l'estrema razio. Andiamo, dateci un po' di tempo per trattare, per vedere se riusciremo ad ottenere delle condizioni migliori per il popolo italiano e poi vedremo. Però imbastiamola questa trattativa, soprattutto in un momento in cui riteniamo che si possa fare maggiormente. Questo è la nostra idea. È verissimo, ma l'abbiamo sempre pubblicato noi con il blog Stiglitz, anche Krugman si chiama, e tanti altri appunto hanno criticato moltissimo la moneta unica intesa come, più che moneta unica, un sistema politico centralizzato. Dateci l'opportunità anche, facendo valere la forza dell'Italia come paese fondatore dell'Unione Europea, perché senza l'Italia l'Unione Europea neanche sarebbe mai nata, di provare appunto a contrattare e a imbastire una trattativa con, diciamo, l'Europa centrale per ottenere dei miglioramenti di una serie di parametri trattati. Prego. In che senso? Noi non abbiamo, come Movimento 5 Stelle, non abbiamo mai preso una posizione per uscire dall'Europa, mai. Io faccio parte di una generazione. Io non so neanche che cosa significhi questa affermazione, sono parole che non so che cosa significhi. Certamente mi piacerebbe un'Unione Europea che fosse attenta alle esigenze di cittadini a cominciare dai paesi più deboli. Questo vorrei. Uscire dall'Unione Europea? No, non è la nostra posizione. Non è questa la nostra posizione. Secondo me no, non è meglio uscire dall'Unione Europea. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle. Ma abbiamo l'opportunità come paese fondatore di farci rispettare in un altro modo, cosa che non è mai stata fatta. Vogliamo soltanto questa opportunità. Questa io ti rispondo proprio in maniera molto leale. Vi dicevo appunto i conflitti di interesse anche legati al tema della corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha scritto un pacchetto anticorruzione molto duro, molto duro. Anche perché vi dico, io mi sono molto dedicato alle mafie in questi cinque anni e senza la corruzione della politica non ci sarebbe lo strapotere delle mafie, che sono arrivate anche qua a Liguria. L'Andrangheta è arrivata qua a Liguria. È vero, magari c'è pure qualcuno qua che viene a sentire che cosa dice il grillino. Ecco, per noi la mafia è una montagna di merda e si può sconfiggere soltanto, soltanto sconfiggendo la corruzione della politica. E se ci fate caso, nessuno in questa campagna elettorale sta parlando di mafia, di lotta al crimine organizzato, di corruzione. Pensate se il PD è forzata. Che fanno? Lo dico sempre, si arrestano da soli. Una vera legge anticorruzione durissima consentirebbe di ricreare legalità in questo paese e di far risparmiare al popolo italiano miliardi di euro che finiscono in grandi opere, in appalti truccati e compagnia bella. Lo sapete che è così. Noi abbiamo come proposta del DASPO per i corrotti, ovvero un politico che viene condannato per corruzione non può mai più presentarsi in nessuna elezione per tutta la sua vita. È un'impresa che per ottenere un appalto ha corrotto un pubblico ufficiale e non potrà mai più partecipare a bandi pubblici. Questo serve per tutelare gli imprenditori onesti che in questo paese non sono mai stati tutelati. La seconda proposta è lo stoppamento della prescrizione quando c'è il rinvio a giudizio. Quando parte un processo, quel processo deve finire. Troppi processi, anche per Eternit, non so, anche quelli per il disastro a Viareggio, sono finiti in prescrizione, però non ci sono i colpevoli in questo paese. Questo perché grandi politici hanno fatto la prescrizione a vantaggio stessa della politica e poi riescono con i loro denari a prendersi grandissimi avvocati che allungano il brodo per far arrivare alla prescrizione e quindi di fatto alla cancellazione del processo i reati che coinvolgono determinate politici. In questo paese alcuni politici sono stati prescritti per corruzione, per concussione, addirittura per mafia. Ecco, noi pensiamo che nel momento in cui parte il processo, lì si stoppa la prescrizione. Quindi il processo comunque arriverà a conclusione. Così, se ci pensate bene, questo è il meccanismo. Il delinquente che sa di avere contro di lui prove schiaccianti, magari andrà dal proprio avvocato e gli dirà qua ci fregano, qua veniamo condannati, non possiamo più allungare il brodo, non si può più arrivare alla prescrizione. Sai che facciamo? Chiediamo un rito abbreviato perché così almeno otteniamo qualche sconto di pena. Così il carcere magari se lo fanno i corrotti e quel processo durerà di meno e quel giudice, quel magistrato si potrà occupare di un altro procedimento penale con snellimento del lavoro nei tribunali, risparmio per tutti gli italiani rispetto alle nostre tasse e maggiore fruttuosità lavorativa appunto della magistratura stessa. Questo è il concetto. La terza proposta, che sembra qualcuno diceva una proposta sadica, è l'inserimento, questo è molto importante, dell'agente provocatore all'interno della pubblica amministrazione. Noi vogliamo formare agenti altamente qualificati delle forze dell'ordine, infiltrarli sotto copertura nella pubblica amministrazione con l'obiettivo di provocare il reato di corruzione. Questo avviene anche rispetto ai reati di narcotraffico, cioè il poliziotto sotto copertura magari tira fuori una mazzetta, la presenta al politico di turno, se il politico se la becca scattano le manette e così iniziamo a fare un po' di pulizia all'interno della pubblica amministrazione. Come vedete in piazza ho tempo di spiegare meglio alcune idee del Movimento 5 Stelle, ho parlato del piano energetico nazionale, ho parlato di sanità, ho parlato di lotta alla corruzione. Spiegarò, prego. Oh, certamente. Scuole e ambienti. Sull'ambiente ho già detto quale... Assolutamente. Assolutamente. Ho già detto che noi abbiamo sviluppato un piano di energetico nazionale per uscire dal 2050 dalle fonti fossili. Se non sbaglio Beppe Grillo disse una volta l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre. Pensateci a questa frase. L'età della pietra non è mica finita per assenza di pietre. Noi lo possiamo fare, possiamo investire, possiamo creare un piano energetico per uscire dalla fonti fossili e ripulire il nostro ambiente proprio perché, vi dicevo, non c'è nessun lobbista del petrolio che ci finanzia la campagna elettorale. Questo è il concetto. Per ritornare appunto al tema del conflitto di interessi e dell'autofinanziamento che è fondamentale. Sulla scuola. Noi, ripeto, io mi sono tagliato lo stipendio e abbiamo creato un fondo per la piccola e media impresa privata. Quindi figuratevi se noi non crediamo nell'impresa privata. Non siamo mica stalinisti o statalisti, affatto. Crediamo nell'impresa privata. Però reputiamo che scuola, trasporti, sanità non siano merci sulle quali lucrare ma appunto diritti da garantire alla popolazione. Quindi con un governo del Movimento 5 Stelle, dopo l'acqua grazie, nessun denaro pubblico finirà alle scuole private. Mai. Tu vuoi portare tuo figlio in una scuola privata? Ci vai, paghi. Ma il finanziamento andrà esclusivamente alla scuola e all'università pubblica, come vuole la Costituzione. Questa è la nostra idea. Poi, se non siete d'accordo è legittimo. Però noi pensiamo questo. Pensiamo anche di poterlo fare. Sappiate che ogni anno si investono nell'università italiana 7 miliardi di euro. Uno dice, ma quanti sono 7 miliardi? Vi faccio un raffronto. Gentiloni ne ha dati quest'anno 5 a Intesa San Paolo per comprarsi due banche venete fatte fallire con la compiacenza della politica che si chiamano Banca Popolare di Vicenza e Banca Veneta. E la Intesa San Paolo non solo si è beccata il regalo di 5 miliardi di soldi nostri, ma ha comprato queste due banche a un euro entrambe. 0,50 centesimi a banca, anzi la parte buona delle banche venete. 5 miliardi di euro. E all'università ogni anno diamo 7 miliardi di euro. Poi è normale che perdiamo competitività. Poi è normale che magari le imprese esterniere ci fanno il mazzo perché si investe molto di più in ricerca e università, appunto, altrove in altri paesi. Qual era l'altro? Ah! Sempre per tornare al tema dei soldi. In televisione vi dicono, il Movimento 5 Stelle intende regalare denaria e nulla facenti con il reddito di cittadinanza. Qui in piazza ho due minuti per spiegare la nostra proposta. Innanzitutto il reddito di cittadinanza c'è in tantissimi paesi, in Italia non c'è. E per me non lo vogliono, non perché appunto non ci stanno i soldi, perché assistenzialismo, perché non lo è fatto, ma perché scardinerebbe il cancro del voto di scambio. In questo paese il voto è ancora molto controllato, magari anche qui a Cario Montenotte. È controllato. Il voto di scambio non c'è soltanto al sud, c'è anche al nord. Magari cambiano le tariffe del voto, ma il voto di scambio c'è. Il voto controllato da una parte della politica. Io so, lo so perfettamente, che ci sono dei politici che senza il controllo del territorio, il voto di scambio, il clientelismo, non prenderebbero neanche i voti dei loro familiari più stretti, proprio perché i familiari più stretti li conoscono molto molto bene e non li voterebbero. Per questo il reddito di cittadinanza non lo vogliono. Non perché costa troppi soldi, ma perché scardinerebbe questa logica del voto di scambio che tiene ancora a galla alcuni politicanti. Questo è il sistema. Le persone, purtroppo, questo è un paese molto ingiusto, ci sono persone così povere da essere quasi costrette, e non le sto giustificando, a vendersi il proprio voto. E se lo vendono per 50 euro, 60 euro, 80 euro, se lo vendono magari per un buono di benzina, per una busta della spesa, questo, no? Ci vogliono abbastanza poveri, non troppo perché se no ci incazzeremmo, però abbastanza poveri per poterci controllare. E magari comprare con il voto di scambio. E magari anche abbastanza ignoranti per poterci manipolare con il sistema mediatico, per quello che massacrano l'istruzione pubblica. Perché ci vogliono un popolo di pecore, abbastanza ignorantenni, che galleggiamo tra povertà e un minimo di sopravvivenza, perché così ci possono controllare, anche perché abbiamo così tanti problemi da non dedicarci alla politica. Il loro obiettivo è impedire al cittadino comune di dedicarsi alla politica, come se la politica fosse soltanto un mestiere per loro. Ma la politica non è un mestiere. La politica, tra virgolette, è l'unico mestiere che inizi a fare peggio proprio quando diventi professionista, perché pur di restare in quel palazzo faresti qualsiasi cosa, scenderesti a compromessi con la tua coscienza e nel peggiore dei casi addirittura con il crimine organizzato. Il politico un tempo andava dal criminale e gli chiedeva pacchetti di voti in cambio di favori. Oggi magari sono, come vi dicevo in precedenza, le stesse organizzazioni criminali che piazzano direttamente i loro uomini all'interno della pubblica amministrazione per farli gestire in le nostre risorse dall'interno. Che vogliamo fare? Io sono proprio sincero. Che vogliamo fare? Ce la vogliamo dare un'occasione, ma non al movimento, a noi come popolo italiano anche di riscatto, di sovranità. Ce la vogliamo assieme alzare questa testa. Guardate che questi politicanti, non so così forti, li possiamo buttare giù se siamo uniti. Certo, se ci dividiamo su ogni cosa, dal calcio alle ideologie fine settecentesche, io sono sincero, io ho sempre votato a sinistra in vita mia. Poi li ho visti in faccia, ho visto che la sinistra ha massacrati i lavoratori più della destra. Questo è un paese incredibile, in cui è la sinistra, sono gli eredi di Berlinguer ad aver abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e la destra, quelli della rivoluzione liberale che hanno creato Equitalia. È incredibile! È incredibile! Allora usciamo un po' da questi meccanismi. Io sono del 78, per me oggi, guardate, nessun diciottenne in un bar si domanda, i diciottenni si domandano, tu sei di destra o di sinistra? Sarebbe come chiedere, tu sei quel foghibellino? Cioè, andiamo un po' oltre, perché alcune cose sono state create appunto per dividere. Dobbiamo essere un popolo unito che affronta determinati problemi e inizia a provare a risolverli partendo dagli ultimi, dalle persone che ne hanno maggiormente bisogno, dai pensionati minimi che non possono campare con 440 euro al mese. È intollerabile, oltretutto, se l'Istat certifica come soglia di povertà 780 euro e torna al reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza significa questo. È una misura che costa 18 miliardi di euro all'anno e i soldi ci sono. Per le banche li trovano sempre, per i vitalizi li trovano sempre, per missioni di guerra come in Afghanistan li trovano sempre, per grandi opere inutili li trovano sempre. Mi piacerebbe una volta vedere un giornalista, conduttore del talk show, intervistare uno di questi del governo che pagano i vitalizi, domandarli ma dove le trovate le coperture finanziarie per i vitalizi? Perché non gli chiedono questo? Perché le coperture finanziarie si devono domandare soltanto quando vuoi tirare fuori una misura per contrastare la povertà, alzare le pensioni minime fino a 780 euro e impedire che un sessantene si ammazzi e un giovane scappi dall'Italia? Il reddito di cittadinanza significa tu non hai lavoro? Bene, io ho il reddito e te lo do. A patto che inizi a lavorare delle ore gratuitamente per il tuo comune di appartenenza e ti inserisci grazie ai centri per l'impiego che riformiamo in un percorso formativo per imparare magari due mestieri nuovi. Poi io tramite questi centri per l'impiego ti faccio una proposta di lavoro. Se tu ne rifiuti tre, perdi il reddito di cittadinanza. Ma non è assistenzialismo, è una manovra economica perché se qua ci fossero 30 persone che prendono a Caro Montenotti il reddito di cittadinanza perché hanno diritto ad un reddito perché è il reddito che ti permette di stare dentro ai margini di una società. Magari questi soldi li spenderebbero in quella caffetteria nella pizza al taglio lì, in questo negozio rimettendo un po' in circo l'economia di Caro Montenotti evitando appunto la fuga di giovani e l'indecchiamento dei paesi come questo come tanti altri paesi in Italia rimettendo in circo l'economia e magari quella caffetteria che inizierà a lavorare meglio avrà domani bisogno di assumere un ragazzo assumerà questo ragazzo quel ragazzo quindi non avrà più bisogno del reddito di cittadinanza e quel sussidio andrà a un altro cittadino di Caro Montenotti questa è la logica si chiama economia virtuosa non sono regali ai fancazzisti è tutto il contrario è tutto il contrario certo il sistema mediatico poi ci arriverò cerca di farvi pensare che noi vogliamo regalare denari a coloro che non hanno voglia di lavorare ma stiamo scherzando è l'esatto opposto il sistema mediatico prima vi dicevo non credete a un articolo prima comunque di conoscere chi c'è nel consiglio amministrazione del giornale che lo pubblica noi non ce l'abbiamo con i giornalisti io sono sempre garbatissimo con tutti certo vado dalla Gruber mi fa degli interrogatori non so delle interviste ci manca solo la lampada accesa di Battista Confessa io non ho fatto niente ce l'abbiamo con il sistema mediatico degli editori impuri perché non ci sarà mai libertà di informazione e me ne accorgo in questi giorni con la violenza degli attacchi del 5 Stelle ci sono giornalisti in questo momento che stanno spulciando le pagine Facebook dei nostri candidati di 4 anni fa per trovare l'errore la parola sbagliata sì la stronzata che avranno scritto su Facebook 4 anni fa perché l'abbiamo scritte tutti delle stupidaggini su Facebook cioè per costore è più scandalosa una frase sbagliata di 4 anni fa che i reati dei candidati dei partiti politici commessi l'anno scorso magari contro la pubblica amministrazione ma che paese è questo? in un paese normale i giornalisti dovrebbero fare la fila fuori dalla casa di Salvini della Meloni di Berlusconi di Rezzi a domandarli scusate perché anche voi non candidate solo incensurati come fa il Movimento 5 Stelle questo dovrebbe fare il giornalismo normale in un paese normale il problema che oggi i grandi giornali sono partiti politici non sono strumenti per la diffusione dell'informazione della libertà di informazione sono partiti politici il gruppo espresso appartiene a De Benedetti tessera numero uno del Partito Democratico uno che ha sventrato l'Olivetti uno che venne pure arrestato in epoca di Tangentopoli uno che è stato condannato in primo grado per l'amianto se non sbaglio all'Olivetti uno che si vantò di aver pagato delle mazzette in epoca di Tangentopoli questo è De Benedetti questo è e ho il coraggio di dirlo tranquillamente anche se so che magari mi arriveranno poi da Repubblica degli articoli contro ma chi se ne frega conta molto di più la mia dignità e il coraggio di dire quello che penso di un po' di qualche articolo contro ma che me frega a me e non lo capiscono pensano di intimorirci adesso gli facciamo un articolo contro ma chi li legge ci incarto il pesce io ci accendo il fuoco non mi interessa più ed è colpa loro se nessuno li legge perché hanno dimenticato la bellezza della libertà di informazione il giornalismo è uno dei mestieri più importanti in un paese come il chirurgo un giornalista importante come il chirurgo e dall'altra parte voi magari vi arriveranno delle notizie su Roma qualcuno non sarà andato a Roma e penserà non so che ci stanno gli squali tigre dentro il Tevere non è così io sono andato in una trasmissione media e si hanno fatto un servizio televisivo ci stanno i topi a Roma sì i topi ci stanno ci saranno penso pure a Cairo Montenotti a un certo punto inquadrano un cammello e due dromedari io non l'ho mai visto i cammelli e dromedari a Roma ma dove li hanno inquadrati questa lettura catastrofica non è così questa narrazione serve a far capire credetemi se la Raggi avesse detto sì agli olimpiadi di Caltagirone Montezemolo e Malagò l'avrebbero portata su un vassoio d'argento ma noi ci siamo posti ad un sistema che è proprietario anche del messaggero del mattino di Napoli di tante televisioni locali questo è Caltagirone altro editore impuro che ha delle diciamo interessi politici imprenditoriali utilizza la carta stampata per il suo scopo questa non è informazione e dall'altra parte Berlusconi che però facesse soltanto l'editore questo è il senso ma ce ne sono tanti altri oggi sono stato a primo canale la televisione qua chi appartiene a primo canale al senatore Rossi se non sbaglio mi posso sbagliare mi aiutate al senatore Rossi a me non mi sta bene che uno che fa politica abbia televisioni questo non è soltanto una questione relativa a Berlusconi ripeto non mi sta bene si chiama conflitto di interessi perché utilizzerà nonostante vi siano anche in primo canale dei bravi giornalisti ma non lo metto in dubbio utilizzerà magari il proprio potere mediatico per scopi politici imprenditoriali questo significa accentrare il potere in poche mani un paese dove tutto il potere è accentrato in poche mani è un paese che non va avanti ora ripeto noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo il momento 5 stelle storicamente vince nelle realtà in macerie noi vinciamo a Roma dopo che ci hanno lasciato 15 miliardi di euro di debiti a Livorno con una serie di problemi dopo 70 anni di partito comunista o frattagli della sinistra e magari se dovessimo vincere pure qua troveremo il marcio dovunque nei ministeri non so quello che ci sarà nei ministeri bravi dirigenti sì ma pure dirigenti farabutti persone che hanno sempre utilizzato il loro ruolo boiardi di stato funzionari senza nome che neanche si devono confrontare con il consenso di un'elezione figuratevi quello che troveremo lo sappiamo non sarà facile ripeto la bacchetta magica non ce l'abbiamo qua tante volte mi domandate un problema un problema io non posso risolvere i problemi tutti quanti vogliamo soltanto un'occasione per iniziare a fare delle cose però farle appunto in assenza di conflitto di interesse prego ok una cosa prima sui vaccini una cosa io a me indigna il fatto che sia un anno esatto che ogni qualvolta si parla di questioni sanitarie si parla esclusivamente del tema dei vaccini ma scusate degli ospedali che chiudono dell'ospedale uno a caserta sciolto per camorra dei pronti soccorso che sono veramente dei gironi infernali del modo in cui lavorano gli infermieri medici non parla mai nessuno dettagli al sistema sanitario pare che l'unica questione sanitaria sia relativa al vaccino io personalmente scusate un attimo fatemi rispondere una volta abbi paziente io personalmente ho vaccinato mio figlio tra l'altro con qualche difficoltà il mese scorso figuratevi se siamo contro i vaccini è uscito dieci giorni fa un articolo in una rivista estremamente prestigiosa che si chiama Nature quindi non l'ha scritto il 5 stelle dove c'è scritto che per raggiungere un livello di immunizzazione più alto e per me questo è l'obiettivo per noi questo è l'obiettivo non sempre l'obbligo è la strada principale io noto che in questo momento ci sono tante persone addirittura scettiche rispetto a tutto il sistema sanitario con queste persone ci devi andare a parlare devi fargli capire che per quanto mi riguarda vaccinare qualcosa di molto importante noi abbiamo votato contro la legge Lorenzin per questo discorso non perché siamo contro i vaccini ma vi pare che siamo contro i vaccini ma che siamo è una cosa una lettura del tutto stupida semplicemente che crediamo con percorso di formazione e accompagnamento di investimento in formazione e accompagnamento permetta di raggiungere risultati maggiori sono due strade diverse per raggiungere un obiettivo però ripeto mi indigna che ormai non si parla più di questioni sanitarie se non di vaccini per carità cose importanti ma tutto il resto quando arriva quando se ne parla meglio non disturbare il manovratore meglio non parlare degli ospedali appunto che chiudono e delle condizioni sanitarie di tantissimi pazienti meglio non parlare di quanto sia stata favorita esclusivamente la sanità privata vi lascio perché fa un po' freddo soltanto raccontandovi il perché secondo me non sono state fatte poi delle cose buone negli ultimi 20-30 anni io ve lo dico da parlamentare uscente non credo nella politica professionista ripeto per me è un mestiere che inizia a fare peggio quando diventi professionista in Parlamento cinque anni fa quando sono entrato credevo onestamente mi sbagliavo che fossero tutti ladri invece non sono tutti ladri anche se poi qualche ladro c'è pensate che in questa legislatura è stato arrestato Galan l'ex governatore del Veneto quando è stato arrestato lui era non soltanto deputato della Repubblica per le tangenti almose ma anche presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati e ha continuato a prendersi gli stipendi sia come presidente della commissione cultura che deputato della Repubblica dal carcere una volta venne la commissione cultura di un paese scandinavo mi pare la Svezia venne e chiaramente il presidente non ha ricevuto questa commissione proprio perché era in carcere io feci parte partecipare a questa riunione e c'era il vice presidente della commissione cultura e quando gli svedessi si domandarono ma dove sta il presidente gli sposa oggi non è potuto venire al che io per esempio non è potuto venire proprio non può venire perché è in carcere e vennero da me dicendo di Battista perché devi raccontare queste robe agli svedesi ci fa fare cattiva figura come se la colpa fosse la mia questo per farvi capire com'è il livello di quel palazzo e lo dico pure all'Eda occorre stare molto attenti in quel palazzo io ti auguro tutto il bene del mondo ma occorre mantenere la testa sulle spalle Leda ti sto parlando per favore occorre colpa di Sergio Battelli mantenere la testa sulle spalle e provare il più possibile tutti i fini settimana anche non in campagna elettorale a stare in mezzo ai cittadini i tuoi datori di lavoro perché se tu non perdi di vista il mondo reale probabilmente lì dentro non ti dimenticherai del mondo reale e porterai avanti appunto le esigenze dei cittadini io noto invece ve lo racconto ve lo dico mi dovete credere adesso perché sono un parlamentare uscente quel palazzo è stato costruito per far distaccare dalla realtà i politici entrano lì dentro parlando dei problemi dei cittadini in campagna elettorale e poi succedono una serie di robe che li staccano completamente dalla realtà ti cade qualcosa a Montecitori arriva subito uno che tu la raccoglie ti trattano come se tu fossi un nobile dell'ansia regime di Versailles ti trattano in questo modo e anche lo stipendio è purtroppo funzionale a questo perché quando tu guadagni 12.000 13.000 euro al mese ha una serie di benefit il mondo reale un po' te lo dimentichi per quello noi ci tagliamo gli stipendi mica perché pensiamo di risolvere il problema del bilancio dello Stato restituendo la metà delle nostre indennità no ma questo ci mantiene comunque ancorati alla realtà perché io prima non guadagnavo 3.200 euro al mese che ne dica Berlusconi lavoravo e come però guadagnavo meno però la mia vita in questi 5 anni dal punto di vista economico in Parlamento non mi si è rivoluzionata ve lo giuro vi do la mia parola d'onore non è che ho fatto una vita ad Annababbo ho continuato a prendere i mezzi pubblici a servirmi della sanità pubblica l'ho sempre fatto punto appunto per non perdere di vista le esigenze di cittadini quel palazzo invece è molto molto pericoloso è molto pericoloso Leda se non stai attento entri dentro pensando ai problemi dei cittadini finisci a pensare ai problemi tuoi cioè quale problema come fare ad essere rieletto nel momento in cui tu pensi è proprio un meccanismo che ti scatta che la politica sia una professione nessuno vuole perdere il lavoro questo è umano magari neanche il parlamentare e pur di non perdere il lavoro è disposto a fare di tutto appunto a fare qualsiasi tipo di patto di inciucio gli interessa non più risolvere il problema dei cittadini ma mantenere quel posto di lavoro non essere licenziato non dover tornare in quel mondo reale perché magari ti piace averci quel privilegio ti piace entrare in Parlamento e vedere il carabiniere che si mette sull'attenti e si mette sull'attenti il carabiniere pure se ad entrare un tal Luigi Cesaro impresentabile di Forza Italia l'autista di Raffaele Cutolo il fondatore della nuova comora organizzata deputato uscente di Forza Italia e oggi di nuovo candidato si mette sull'attenti il carabiniere si è messo pure quando è entrato Franco Antonio Genovese uno che è stato arrestato perché si è fottuto i fondi per sostenere la formazione professionale di giovani siciliani poi dici che in Sicilia non ci sta lavoro se li sono fottuti questi soldi dal PD è passato in Forza Italia è riuscito a fare leggere con voti clientelari osceni nella zona di Messina suo figlio un ventenne all'assemblea regionale in Sicilia questo non ci sono più politici ci sono una stirpe di politici De Luca padre De Luca figlio con la Ninno con la Ninno figlio questo è il sistema però permettetemi e per questo vado in piazza la responsabilità nostra un paese di persone che abbassano la testa ha prodotto una classe politica non lo so di Boriosi è solo responsabilità nostra qualcuno non sarà d'accordo con il 5 Stelle legittimo legittimo non pretendiamo di avere la saggezza al mondo non neanche veniamo da Marte quindi non è mai successo che il 5 Stelle appunto abbia messo le mani nelle tasche dei cittadini ma io sono sincero non escludo che il domani non possa succedere non è che noi pretendiamo di cambiare l'animo umano l'animo umano è corruttibile però candidando soltanto incensurati stando in quei palazzi un tempo limitati io quando ho sentito che era giusto uscire da quel palazzo per me per la mia vita per la mia diciamo per la mia vita io l'ho fatto ho capito Alessandro meglio che per un po' esci vatti a disintossicare un po' torna un po' nelle piazze e poi ritornerai se vorrai più forte di prima però fai questa scelta io ho fatto questa scelta il movimento è questo sono quattro regole in croce che consentono di ridurre non eliminare ma ridurre la possibilità di contaminazione in quei palazzi che sono pericolosi perché ti senti fanno sentire migliori del popoluccio e quando tu inizi a pensare veramente di essere migliore del popoluccio è lì che sei fottuto mentalmente perché inizi a giustificare l'ingiustificabile inizi a pensare che quello non è un privilegio è qualcosa che ti spetta perché tu sei migliore del popolo che quella non è una mazzetta è un regalo che ti fa un imprenditore perché hai lavorato bene che quello non è un criminale ma uno che muove l'economia in quella zona dove è possibile prendere altri voti inizi a giustificare mentalmente tutto questo giustifichi in quel palazzo quello che al di fuori non giustificheresti mai e vi faccio un altro esempio che fa ridere ma che faccio sempre quando scoppiò l'ennesimo scandalo del tesseramento falso del PD avevano tesserato dei cinesi io entrai un lunedì in Parlamento tra l'altro era tutto abbastanza vuoto e trovai soltanto Cupero su un divanetto di Montecitori tra l'altro non è facile distinguere Cupero dal divanetto di Montecitori ce l'ho fatta faticosamente andate a Cupero gli dissi Cupero che avete fatto? come battuta? avete tesserato mio nonno che è morto nell'87 Cupero mi guarda e mi fa veramente? io gli dissi no Cupero è uno scherzo ah no perché se no intervenivo per lui era plausibile per lui era plausibile questo vi fa capire come all'interno di quel palazzo ciò che fuori ci fa ridere ci strappa una risata viene considerato plausibile il problema di questo paese neanche sono i ladri ma sono gli onesti che pur di mantenere una poltrona a 13.000 euro accettano di stare di fianco a un ladro questo è un problema grande di questo paese è questo è questo io non lo accetto non lo accetterei per la mia dignità non lo so sarà a merito dei miei genitori della vita che ho fatto prima ho avuto tante esperienze ho lavorato nelle comunità indigeni in Guatemala ho vissuto una vita particolare senz'altro ma io non lo accetterei mai per la mia dignità alcuni politici persone per bene però magari non denunciano certe nefandezze perché denunciare una nefandezza ti metterebbe contro il tuo partito e magari non verresti più ricandidato e la tua vita è stare in quel palazzo questo per me è il meccanismo un po' atroce che ha spinto tanti politici a distaccarsi dalla realtà e a non realizzare appunto i punti del programma vi ho raccontato tutto questo è stata un po' una spremuta della mia esperienza parlamentare vi ho parlato delle idee di alcune proposte scusa un attimo perché veramente ho le mani congelate e non l'ho portato e non mi avevano detto che c'erano queste temperature no basta basta adesso posso dirvi soltanto una cosa la fornero uno la prima cosa la prima cosa onestamente è non votare quelli che la fornero l'hanno votata no la prima cosa anche perché ripeto noi ci troveremo disastri commessi dagli altri e non è che in 24 ore riusciremo a risolvere tutto quello che hanno fatto gli altri questo ve lo dico sinceramente se pensate il 5 stelle ci abbia la non lo so la bacchetta magica votate qualcun altro però la fornero io cerco di ricordarlo questa legge fornero imposta di fatto all'Unione Europea l'ha votata a Bersani il comunista a Bersani l'ha votata a Berlusconi quello che è sempre stato considerato quello per le pensioni e l'ha votata pure la Meloni una della destra sociale sono sincero la Lega non l'ha votata però oggi sta come ci ha come alleati Beloni e Berlusconi che legge fornero l'hanno votata ora noi pensiamo cose semplici quota 41 quota 100 iniziare a mandare le pensioni prima e cominciare da lavori usuranti se tu hai 63 anni di vita e 37 anni di contributi pagati 37 più 63 fa 100 devi andare in pensione punto e le quattrini si trovano anche perché sappiate che è un circolo questo si è vizioso se tu le persone le mandi in pensione troppo tardi sempre più là i giovani nel mercato del lavoro non entrano e chi paga con il proprio lavoro le pensioni attualmente guardate questa è la verità è con il lavoro di oggi che si stanno pagando le pensioni di oggi non è che stanno i soldi per i pensionati tutti accantonati da qualche parte per cui se tu distruggi il lavoro giovanile eviti pure che vi sia la possibilità di pagare le pensioni e per questo mandano i pensionati in pensione sempre più tardi senza la possibilità poi io ve lo dico pure da neopapà cioè i nonni devono fare i nonni i nonni devono fare i nonni cioè tanti giovani magari non fanno i figli anche perché non ci avrebbero a disposizione due nonni che ti danno una mano immensa mia mamma ci sta dando una mano immensa è una nonna eccezionale questa è la verità per cui i nonni è bello che abbiano pure il tempo di curarsi i nipoti poi se c'è qualche nonno qua io non ho mai visto mia mamma così felice cioè penso che voglia molto più bene a mio figlio che a me molto di più è vero è vero cioè io da quando è nato mio figlio non esisto più entra mia madre a casa come sta Andrea ma io dove sto non so se capita sì è una gioia incredibile seppure ringiovanita seppure ringiovanita come vota PD mio figlio non lo so voterà quello che vuole mio figlio poi se dovesse votare PD si troverà un'altra famiglia ma questo è un altro discorso sto scherzando scusate concludo occhio soltanto a una cosa alla politica dei bonus e delle mancette io già li sento appena vedono che stiamo lì lì tutti quanti per arrabbiarci organizzarci e andare contro al sistema magari votarli via votarli via costringerli a trovarsi un mestiere e se non ci dovessero riuscire comunque anche agli Alfano ai Franceschini ai Renzi gli daremo il reddito di cittadinanza 780 euro al mese e glieli diamo a patto che si inseriscano in un percorso formativo e lavori in otto ore gratuitamente per il comune d'appartenenza io vi dico che appena vedono che stiamo lì lì per organizzarci e organizzarci pronti a mandarli via ripeto a votarli via tirano fuori un bonus e una mancetta noi ci siamo noi italiani ci siamo cascati troppe volte alla logica bonus e delle mancette ci hanno sventrato il lavoro però bonus 80 euro ci hanno distrutto la scuola pubblica però bonus insegnante magari qualche insegnante ci è cascato hanno distrutto l'università bonus studenti distruggono la sanità pubblica bonus cure gratuite per questo male oppure visita gratuita in un giorno all'anno per questo determinato male questa è la politica del metadone dell'anestesia ci vogliono dormienti addormentati mansueti ci vogliono come pecore questa è la verità così ci possono controllare appena vedono che stiamo lì ad alzare la testa scatta la politica del bonus è sventurato un paese che si contenta dei bonus e delle mancette anche perché sono soldi nostri che l'ha stampato i Renzi quando dovremmo tutti quanti assieme un po' più essere uniti come una comunità lasciare via alcune divisioni e rivendicare a testa alta assieme i diritti questo fa un popolo sovrano grazie cari Montenotte e buonanotte a tutti buonanotte buonanotte ah sì io sto scusate io sto un attimo qua poi rimaniamo se ci facciamo due foto un attimo solo chiunque volesse fare una foto qua ci sto a disposizione anche se per me i selfie sono renziani e se volete fare una donazione con carte di credito cash vi prendete la ricevuta e sostenete questo tour e il movimento a me